Mille volte. La medicina per il dolore è il tempo. Commento. No, molte persone rivivono il tempo del dolore mille volte e fermano il tempo. Il tempo è relativo alla condizione umana e dipende solo dall'energia che l'uomo gli dà. La medicina per il dolore non è il tempo, ma la fede.